Torniamo invece a parlare di cinema, questa volta di documentari. Vittorio Veneto oggi, nel quarto anniversario della sua scomparsa alle 16.30 al Museo del Cenedese, omaggia un grande attore e regista, Giuseppe Taffarelle, che negli anni 40 partì per Roma con il grande sogno di fare il cinema e ci riuscì. Verranno presentati poi due documentari, uno è il regista delle prealpi di Giovanni Carraro, che abbiamo incontrato, Ivana Gondic. Come ha conosciuto Giuseppe Taffarelle? Giuseppe Taffarelle l'ho conosciuto per caso. Quando scrivevo i miei libri di escursionismo sulle montagne, sulle prealpi trevigiane, andavo sempre alla ricerca di quel che hanno lasciato i nostri anziani. E tutti mi raccontavano, soprattutto nelle borgate che sono vicino a Vittorio Veneto, mi raccontavano di questa presenza di vecchi documentari che qualcuno aveva girato. E' nato così, quasi per caso, l'incontro tra Giovanni Carraro e Giuseppe Taffarelle, regista, attore, sceneggiatore di Vittorio Veneto, che negli anni 40 scelse il mondo del cinema, prima come attore, poi come regista, frequentando l'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico e il Centro Sperimentale a Roma. Il cinema è arte di sintesi, il documentario è arte di sintesi della sintesi. Scelta originale inusuale per l'epoca, ma la sua grande passione era proprio la settima arte. Nell'arco della sua vita ha realizzato più di 300 documentari dedicati al tema della guerra, alle tradizioni popolari, alle problematiche sociali. Ho scoperto dei lavori veramente fatti bene, dei documentari che raccontano la miseria, purtroppo, perché si parla del dopoguerra di metà del secolo scorso, la dura vita che facevano queste persone su queste borgate, abbarbicate sui pendi del Col Vicentin, quindi Faís, Revine, la stessa Seravalle. Una scoperta così ricca per Giovanni Carraro che ha deciso di dedicare a Giuseppe Taffarel e alla sua arte un documentario. Giovanni ha realizzato un documentario la cui concretezza ha rappresentato perfettamente la sintesi che voleva rappresentare mio padre nei suoi documentari, quindi credo che sia veramente uno dei, al giorno d'oggi, il più bello che abbia visto.